Ieri la Regione, tramite l'assessorato ai lavori pubblici, ha presentato uno studio di fattibilità elaborato dal Genio Civile di Nuoro sull'utilizzo delle acque della sorgente e del sugo logone per approvvigionare i comuni della bassa baronia, oltre a quelli di Oliena e d'Orgali. Sulla vicenda oggi prende posizione la Giunta Comunale di Oliena, guidata dal sindaco Martino Salisi, che con una nota ha precisa la propria posizione sulla questione. L'amministrazione comunale ha ribadito che non vi è alcuna preclusione alla possibilità di risolvere il problema idrico dei paesi della bassa baronia, purché vengano rispettate tre condizioni imprescindibili e preventive. La prima, sottolinea la nota, concerne l'assoluta tutela del sito già dichiarato monumento naturale. La seconda riguarda la definitiva risoluzione dell'approvvigionamento idrico per Oliena. La terza, che in ogni caso, questo approvvigionamento idrico debba avvenire solo ed esclusivamente dalle fonti di sugo logone. L'amministrazione è precisa di aver ricevuto solo ieri lo studio di fattibilità redatto dagli uffici regionali e si è espressamente riservata di sottoporla ai propri uffici ed esperti del settore di sua fiducia, data l'estrema delicatezza del sito e l'assoluta importanza dell'argomento trattato. La Giunta Comunale si è impegnata anche a informare puntualmente la cittadinanza sugli sviluppi della vicenda. intensità أو Grazie.